A Leonardo Codirenzi chiediamo la motivazione del ricorso antitrust tra Teramo Ambiente e Nera Ambiente e Comune di Teramo. Abbiamo ritenuto opportuno fare istanza all'antitrust, all'agicom, perché? Perché innanzitutto crediamo che l'ATEM abbia violato le norme sulla libera concorrenza. Questo perché? Perché l'ATEM, essendo una società misto pubblico privata, e il privato non essendo più la slia spa che fu scelta al tempo tramite banda di evidenza pubblica, e non avendo fatto più un banda di evidenza pubblica, l'ATEM viola le norme sulla libera concorrenza. In secondo luogo, l'ATEM viola tre norme, ossia quelle relative all'abuso di posizione dominante sul mercato, perché attraverso le varie partecipazioni e compartecipazioni ha un po' il monopolio del mercato. La delibera di giunta che è passata sulla segnazione dei servizi museali all'ATEM è stata giustificata da un parere legale dell'ufficio legale del Comune di Teramo, dato su di una delibera che riportava ancora il nome del socio privato slia. Sappiamo benissimo che dal 2007 il socio privato è l'Ener Ambiente. Al Comune di Teramo, allo stesso ufficio legale, è stato fatto presente che l'attuale socio della Teramo Ambiente Spa è l'Ener Ambiente Spa. Loro ritengono che sia ancora la slia, dalle visure camerali non risulta più la slia, quindi o pongono rimedio al tutto cercando di modificare le delibere che già hanno approvato, quindi chiedendo chiarimenti anche alla stessa terma di chi è il nuovo socio privato, oppure come si dice in genere se hanno ragione, hanno ragione.